Anche per il Natale 2023 la Roussan, azienda di Santa Venerina, come lo scorso anno, è tornata al Policlinico di Messina con l'iniziativa Prontigen regala un sorriso, rivolta a tutti i piccoli pazienti del Policlinico ed in particolare al reparto di nefrologia pediatrica del Policlinico Universitario di Messina, diretto dal professor Roberto Chiemens. Quest'anno sono stati supereroi siciliani ad attraversare le corsie dell'ospedale, portando sorrisi e consegnando i regali donati dalla Roussan di Anna Maugeri Russo. La giornata è stata organizzata dai coniugi marino di Zafferane Etnea, genitori della piccola Gaia, bambina affetta da problemi del neurosviluppo e paziente del suddetto reparto, dall'imprenditrice di Santa Venerina ed ideatrice della Roussan, Anna Maugeri Russo, e dall'illuminato medico Roberto Chiemens. Sono delle iniziative che ci vedono sempre molto favorevoli, sono dei momenti sicuramente indispensabili e utili per ottimizzare e per dare una qualità ai pazientini ricoverati, proprio una qualità di vita, perché non c'è dubbio che il binomio salute e fisica e psicologica va di pari passo e queste iniziative sicuramente consentono di umanizzare le ospedalizzazioni dei bambini, soprattutto pazientini, come nel nostro reparto, un reparto super specialistico di patologie nefrologiche, acute, croniche, dove c'è quindi un impatto molto importante sia in termini di terapia che in termini di pathos per quanto riguarda le famiglie. Chiemens ci ha spiegato come il reparto di nefrologia pediatrica sia oggi fiore all'occhiello del Policlinico Universitario di Messina e punto di riferimento per l'Italia meridionale. Io mi onoro di dirigere l'unità operativa di nefrologia pedagondialisi che, grazie all'impegno di tutti, ha consentito di implementare quelle che sono appunto le esigenze dei pazienti con patologie nefrologiche perché è sicuramente ormai un punto di riferimento la nostra struttura perché rappresenta praticamente, copre le esigenze tutta la Calabria e la Sicilia orientale. È un punto di riferimento dell'anfrologia pediatrica del sud Italia e questo, grazie al lavoro negli anni, insomma, si stanno raccogliendo i frutti, ma non è importante solo e soltanto come, diciamo, visibilità, ma è fondamentale evitare praticamente che questi bambini meno fortunati facciano praticamente delle migrazioni verso il nord e quindi invertiamo quella che può essere la tendenza purtroppo di noi medidionali. Sicuramente, allora, devo dire, l'incidenza è sicuramente maggiore ma a prescindere dall'incidenza su alcune patologie che effettivamente ci sono patologie emergenti, quello che poi sta diventando sempre di più, essendo sempre di più punto di riferimento, andiamo a trovare pazienti di, non solo chiaramente, di Messina e dell'Interlando messinese, ma di altre province siciliane e calabresi e quindi chiaramente, appunto, l'incidenza diventa sicuramente notevole. A rendere magica la giornata è stata la squadra dei supereroi siciliani che, volontariamente, portano avanti queste attività al solo scopo di donare qualche momento di spenseriatezza ai bambini e alle famiglie che, da reali supereroi, affrontano quotidianamente dure terapie. Il nostro gruppo nasce circa due anni fa con il chiaro intento di portare un momento di spenseriatezza all'interno del reparto ospedaliero e non solo all'interno degli ospedali. giriamo ovviamente in tutta la Sicilia dove ci sono strutture di ricovero, ma ci piace molto spesso di organizzare delle attività all'esterno e quindi dove è possibile portare i bambini anche fuori per fare attività ludiche e fare attività di integrazione. Come oggi abbiamo un progetto che si chiama progetto di Visamica che coinvolge anche la presenza delle forze dell'ordine. Oggi abbiamo un rappresentante della questura di Messina, ma molto spesso ci accompagnano gli uomini dell'arma, così come della Guardia di Finanza, così come altre rappresentanze delle istituzioni. Quindi il nostro obiettivo è quello, almeno una volta al mese, di andare a incontrare i bambini e portare come oggi un momento di allegria, perché sappiamo che per i bambini, ma soprattutto anche per le famiglie, stare all'interno delle strutture di ricovero è un momento assai difficile e gravoso, quindi cerchiamo di portare allegria e spensieratezza.